Ma non è una guerra questa, è giocare con bambino. Non è guerra, è come prendere un sasso così grosso e andare in una culla e tirarlo sulla fronte di un neonato. È un atto da vigliacco accettare una sfida da parte di Nanni. Da oggi i Nanniers sono in guerra con i Panettiers. La guerra si aprirà e non sarà risparmiato nessuno. Nessuno. Alexa, luci rosse. Devo andare a prendere un vecchio cimelio. Forse tu non ricordi chi stai sfidando. Ma io ricorderò a tutti quanti che davanti a questa telecamera c'è il re. Il vostro re. Questa qui è la corona della tua modace ed io sono il re di questa merda. Perciò se vuoi la sfida, Nanni, sei entrato nel posto sbagliato perché quante battaglie hai fatto? Quante vittime? Zero! Abbiamo combattuto contro Dario, contro Power, contro Gischianto, contro Michelle. E abbiamo vinto! Cosa ne sai della guerra, Nanni? Cosa ne sai della guerra?